Al via un nuovo ciclo di incontri di cultura economica organizzato dall'Istituto Regionale di Studi Europei di Pordenone, presso il Centro Culturale Zanussi. Arrigo Pallotti, docente di storia e istituzioni dell'Africa presso l'Università di Bologna, ha parlato di vecchi e nuovi squilibri delle democrazie africane. Oggi in Africa assistiamo ad una crescita del PIL del 5%, è una buona notizia? Sì, è evidentemente per certi versi una buona notizia. Da altri punti di vista questa crescita economica pone delle domande riguardo a quella che è la distribuzione della nuova ricchezza che viene a crearsi e anche la capacità di questa nuova crescita economica di tradursi in un miglioramento di quelli che sono i tassi di povertà in Africa. Quello a cui abbiamo assistito in questi ultimi 10-15 anni è che a questa crescita economica impetuosa non corrisponde un'altrettanto impetuosa diminuzione dei tassi di povertà, per cui oggi circa un africano su due rimane sotto la soglia di povertà. Come conciliare crescita economica e lotta alla povertà oggi in Africa? Direi che c'è un grande consenso sul fatto che il modo per unire crescita e lotta alla povertà passi attraverso l'agricoltura, cioè passi attraverso un modello di agricoltura che riesca a valorizzare i piccoli contadini, in che modo? Fornendogli dei servizi, fornendogli dell'assistenza, aiutandogli a entrare nel mercato, perché altrimenti che cosa succede? Che la crescita rimarrà in qualche modo confinata dai settori, come ad esempio quello delle miniere, come quello del turismo, o quello della finanza, che non riescono a creare un numero sufficiente di posti di lavoro. Boko Haram e Isis, secondo lei ci sono delle correlazioni tra questi due movimenti integralisti? Secondo me è molto difficile capire quello che sta avvenendo sul terreno. No, sarei per differenziare il più possibile questo genere di movimenti, per una ragione semplice. Boko Haram è un movimento di islamici radicali che vuole imporre la sharia con le armi, che si è sviluppato in una delle regioni più povere della Nigeria, che ha alle spalle una lunga tradizione di jihad combattuta in questa regione e che in questi ultimi anni il governo nigeriano non è riuscito o non ha avuto la volontà di combattere in maniera efficace. Quindi Boko Haram richiede da una parte una risposta di tipo militare e dall'altra però anche una risposta fortemente politica, quella che fino ad oggi è mancata. Per quanto riguarda anche la preoccupazione dell'Isis in Libia, mi sembra che da una parte non si possa negare che questo genere di reti e di gruppi si possa inserire in situazioni di grande caos in cui non c'è più uno Stato centrale. E dall'altra però anche qui bisogna capire quelle che sono le rivindicazioni di questo movimento, che non hanno una storicità in Africa come può avere invece quello di Boko Haram e quindi però di conseguenza cambiano anche i modi per affrontare questo genere di situazioni. Grazie a tutti.